buongiorno in questo video iniziamo a parlare del ciclo di vita di react e in particolare di un nuovo hook che introduciamo oggi e che ci accompagnerà anche la settimana prossima che si chiama use effect giusto per allinearci su due o tre concetti che abbiamo già in parte sperimentalmente osservato nelle settimane precedenti ma che oggi approfondiamo un pochino di più anche in vista dell'utilizzo di use effect e quindi della possibilità di interagire col server iniziamo parlando del ciclo di vita dei componenti allora noi per ora abbiamo sempre parlato della costruzione e distruzione di un componente e del rendering e il rendering è in effetti la l'azione più importante di un componente ma ci sono altri passaggi altri eventi che ufficialmente capitano in react anche se noi non ce ne accorgiamo e in particolare sono questi tre innanzitutto un'applicazione react un componente react viene montato un componente react viene montato quando è caricato e inserito nel dom a un certo punto il componente può essere rirenderizzato e questo evento si chiama updating e questo updating può ovviamente avvenire molteplici volte ogni volta che il componente viene rirenderizzato quindi per esempio ogni volta che lo stato quel componente cambia e infine esiste un altro stato che questo di unmounting in cui il componente viene rimosso dal dom quindi quando noi creiamo un componente come per esempio il form di un paio di settimane fa in cui abbiamo aggiunto il form se ricordate sotto la tabella delle risposte e l'abbiamo caricato al l'abbiamo creato quando si prendeva il bottone aggiungi e poi lo distruggevamo quando si prendeva il bottone cancella ecco in quel caso noi facciamo il mounting e l'unmounting react faceva il mounting e l'unmounting del componente ovviamente questo capita anche a livello di app ma in quel caso era più evidente perché era solo una porzione della pagina che appunto spariva e riappariva ci sono diversi hook che possono agire in queste varie fasi use memo us call back user reducer li saltiamo all'interno di questo corso ma per esempio questo use memo agisce nel fase di mounting e non nella fase di updating e un mounting quindi un qualcosa che capita prima in un certo senso durante la creazione del componente abbiamo già visto lo stato che infatti agisce sull'aggiornamento dello stato sull'aggiornamento del componente in quanto come ormai sappiamo bene cambiando lo stato viene aggiornato anche la renderizzazione del componente quindi i componenti viene rirenderizzato e use context che abbiamo visto la settimana scorsa in parte risolve lo stesso in parte come avete visto si applica nella stessa fase di use state e agisce sullo stesso stato che è questo di aggiornamento e nella fase di un mounting quantomeno nella fase di rendering come vedete non ci sono hook quindi il hook che abbiamo utilizzato per ora agisce state e use context agiscono nella fase di rendering quindi dove le funzioni dove componenti funzionali devono essere puri e senza side effect agisce soprattutto sul virtual dom più che sul dom vero e proprio ma a un certo punto ovviamente i componenti react devono anche essere riversati sul dom effettivo della pagina ed è in quel momento che esistono altri hook di cui noi andremo a vedere oggi e la settimana prossima questo use effect che possono essere applicati nelle varie fasi quindi sia nella fase di mounting sia nella fase di updating sia nella fase di un mounting quindi questo use effect per esempio potrebbe essere utilizzato prima che il componente venga caricato e creato oppure durante l'aggiornamento oppure addirittura durante la fase di distruzione del componente stesso perché lo use effect è nella fase di commit e non nella fase di render perché nella fase di render le componenti funzionali devono essere puri e senza side effect mentre nella fase di commit si può lavorare col dom vero e proprio del browser ci possono essere side effect ci possono essere aggiornamenti programmati e quant'altro ora che cos'è un side effect noi abbiamo sempre detto che un componente funzionale react utilizza le props e le stati per calcolare il proprio output un side effect è quindi ogni calcolo che non ha come obiettivo l'output finale e quindi qualunque l'output finale del componente e quindi un qualunque cosa che influisce qualcos'altro al di fuori dello scopo del componente funzionale che venga eseguito facciamo un esempio molto semplice console.log console.log per questa definizione è un side effect perché è un calcolo che non ha come obiettivo l'output i valori di output del componente il componente si renderizzerà a schermo in termini di html css e il console.log invece è un qualcosa che non ha come obiettivo nessuno dei valori target del componente non influenza le props non influenza lo stato non influenza il rendering ovviamente quello è un esempio molto molto semplice e altri esempi di file set sono riportati in questa slide il data fetching quindi l'usare la fetch per chiamare api su un server è un esempio eclatante un esempio importante di side effect il log è anche un altro esempio subscription come handler sono side effect e cambiare manualmente il dom in componente react è un side effect quindi non va fatto durante la fase di rendering come vi ho detto quando siamo passati dalla manipolazione del dom a react vi avevo detto ora queste cose dimentichiamocele in un certo senso perché noi non andremo più a manipolare direttamente il dom ma useremo react che tramite il virtual dom e quant'altro agirà e produrrà la pagina l'applicazione web finale quindi se noi per esempio volessimo manipolare direttamente il dom questo sarebbe un side effect perché non agisce su nessun valore di output del componente specifico e se dovessimo farlo andrebbe fatto separatamente non direttamente all'interno del componente perché appunto è un effetto collaterale un side effect ora noi oggi ci concentriamo soprattutto o anzi unicamente sul data fetching perché è il side effect più frequente nel nostro tipo di applicazione quindi un'applicazione web che ha anche un server come back end per avere informazioni ed è anche l'oggetto di quello che abbiamo visto nel video precedente in quanto la fetch sarebbe un side effect quindi come gestiamo il side effect per cui appunto sarebbe un errore fare operazioni di side effect nel corpo di un componente e infatti appunto non ci sono side effect nella fase di rendering tutti i side effect sono solo dopo eseguiti dopo il rendering e dopo l'aggiornamento del dom quindi l'oggetto principale in cui agire per i side effect è appunto un hook che è il side effect quindi ricordiamoci questo console.log scritto qui in un componente è sintatticamente corretto funziona se noi facessimo un componente di questo tipo ma questo è un side effect perché non ha niente a che fare con l'output che viene calcolato e quando react chiamerebbe questo console.log è difficile saperlo perché questo side effect verrà eseguito quando react decide di renderizzarsi o di renderizzarsi abbiamo controllo su quando react decide di renderizzarsi su quante volte react rirenderizzi il componente poco abbiamo poco controllo quindi questo console.log potrebbe capitare mai una volta due volte in quale momento specifico non lo sappiamo perché il rendering è sotto controllo di react quindi come si gestiscono questi side effect quei side effect si gestiscono attraverso una funzione che appunto nel nostro caso è un hook che è uno use effect che confina al suo interno i side effect ed è questo hook lo use effect che ne controlla la sua esecuzione. Ora come si usa use effect? Use effect è un'API abbastanza densa. Use effect ha una callback e un array di dipendenze questo non sta a indicare questo sta sia indicare questo non sta a indicare un parametro opzionale ma sta a indicare che questo è un array quindi la callback ci dice che cosa vogliamo eseguire e le dependencies ci dicono quando eseguirle quindi la callback è una funzione che contiene tutte le logiche di side effect e use effect esegue la callback dopo che react ha fatto il commit dei cambiamenti sullo schermo quindi dopo che il DOM del browser viene aggiornato e questa callback potrebbe anche ritornare una funzione di cleanup se ci fosse bisogno. Le dependencies invece sono un array di dependencies che è opzionale nel senso che può non esserci un array ma ci deve essere un qualcosa in questa seconda posizione del del look. E use effect cosa serve questo array di dependencies? Serve per far sì che la callback venga eseguita solo se almeno una delle dependencies presenti nell'array è cambiata tra un rendering e il suo rendering successivo. Quindi la callback ci dice qual è il side effect da eseguire, l'array ci dice quali sono le dipendenze da collegare a quello use effect per eseguire quella callback ma solo quando una di quelle dipendenze è cambiata rispetto al rendering successivo. Quindi se una dipendenza non cambia da un rendering a un altro la callback non viene eseguita. L'array di dipendenze quindi il secondo parametro di quella della use effect può avere tre diciamo così stati, può avere tre valore al suo interno. Il primo valore è nessun valore quindi l'array non c'è. In questo caso il side effect viene eseguito a ogni rendering quindi ogni volta che componente si renderizza il side effect viene eseguito. Questo può essere comodo se davvero c'è qualche operazione da fare praticamente sempre ogni renderizzazione. Un array vuoto invece ci dice che il side effect viene eseguito solo una volta dopo il rendering iniziale, quindi quando il componente viene creato per la prima volta o quando viene fatto il refresh di quel componente. Quindi un array vuoto una sola esecuzione. Se è un array con delle props o degli stati il side effect viene eseguito una volta dopo il rendering iniziale, quindi esattamente come nel caso dell'array vuoto, e poi ogni volta che uno di questi valori di dipendenza cambia. Quindi se non c'è l'array di dependency, il side effect viene eseguito sempre, ogni rendering, se c'è un array vuoto viene eseguito solo una volta all'inizio, al rendering iniziale, se ha qualcosa dentro in termini di props e o state, il side effect viene eseguito nel caso in cui, nello stesso caso in cui che abbiamo con l'array vuoto, quindi una volta dopo il rendering iniziale, e poi ogni volta che uno di queste proprietà, di questi stati è cambiato tra un rendering e l'altro. E qui c'è un esempio, in questo caso viene eseguito dopo ogni rendering, in questo caso viene eseguito una volta dopo il rendering iniziale, e in questo caso viene eseguito una volta dopo il rendering iniziale, e tutte le volte che prop o state cambia. Guardiamo questo esempio, in questo esempio abbiamo un bottone che cliccando imposta uno stato, questo set num ha un valore in più, e poi passiamo come props il valore num che è preso ovviamente da uno stato. Quindi questo use effect viene eseguito array vuoto solo quando il componente è montato, e quindi questo console log cosa farà? Questo console log, dato che viene eseguito solo quando il componente è montato, verrà stampato una sola volta e darà il valore di num nel momento in cui è stato inizializzato, in questo caso 3. Questo use effect invece viene eseguito al tempo della creazione del componente, quindi quando viene renderizzato per la prima volta, più tutte le volte che la props num cambia. Quindi in questo caso cosa vuol dire? Che tutte le volte che apriamo il bottone questo verrà stampato, inclusa la prima, questo 3, che è esattamente come l'altro 3, perché è il momento in cui viene creato per la prima volta. Ora, qual è la timeline con cui questo capita? Innanzitutto il componente count viene creato con numero uguale a 3 e montato in app. Dopodiché la function count viene chiamata, gli use effect sono registrati, non eseguiti, viene ritornato, quindi questi vengono registrati, passo 1, poi viene ritornato il div col componente, perché ricordiamoci che gli use effect avvengono dopo la fase di rendering, nella fase di commit, quindi il gsx viene ritornato, il componente a questo punto è completato il mounting, è stato montato correttamente, quindi viene eseguito questo per la prima volta, viene eseguito questo per la prima volta, poi quando un utente clicca e cambia il numero viene eseguito di nuovo il my dynamic number, un numero di volte pari al numero di volte in cui la persona clicca sul bottone. In ogni caso, dobbiamo sempre ricordarci che quando clicco, questo clic del bottone, questo clic cambia lo stato, cambiare lo stato fa cambiare num che a questo punto ha valore 4, count viene rirenderizzata, gsx, quindi count viene renderizzata, il gsx viene ritornato, questo prima use effect non viene più eseguito, perché non ha una dipendenza su num, e viene eseguito solo alla creazione del componente, ma in questo caso è un aggiornamento, e a quel punto num ha cambiato valore, perché da 3 è passata a 4, e quindi viene rieseguito questo use effect. Ma ricordatevi sempre che prima degli use effect vengono ritornato il gsx, quindi viene prima renderizzato il componente. Ovviamente vi ho detto che all'interno delle variabili di dipendenza ci possono essere delle props e ci può essere dello stato. Ovviamente quando una variabile di stato cambia, l'effetto viene di conseguenza eseguito. Se lo stato è aggiornato, ma il valore non cambia, l'effetto non viene eseguito. Questo vuol dire che se nello stato ho il numero 5, e c'è un aggiornamento dello stato, in cui io da 5 rimetto 5, per esempio. A quel punto React potrebbe generare un altro rendering del componente, ma dato che il valore non cambia, in quanto è ancora 5, esattamente come prima, l'use effect non viene eseguito. Dentro l'use effect si può schedulare un aggiornamento di stato, in quanto è codice, nella callback, e quindi lo stato, in quel caso, verrà aggiornato dopo che l'effetto si è completato, in maniera asincrona, e anche in quel caso, se il valore dello stato cambia, il componente viene rivenderizzato. Quindi è possibile, dentro di un use effect, aggiornare uno stato, che verrà eseguito in un certo tempo nel futuro. Quando lo stato sarà aggiornato, si aggiungerà lo stato, quindi un state, e il componente verrà rivenderizzato, come se fosse un aggiornamento di stato normale, indipendentemente dal fatto che sia dentro la use effect. E qui c'è un esempio, in cui abbiamo uno stato open, con set open, che può essere messo a true o false. Abbiamo anche un timeout, dentro use effect, che mette lo stato open a false dopo 500 millisecondi, e ha una dipendenza sullo stato open. E abbiamo anche un bottone, open me, che aggiorna lo stato invece a true. Quindi, guardiamo la timeline. La prima cosa che capita è che il componente, quick gate, viene creato. È caricato, viene creato nell'app. Poi, la function, quick gate, è chiamata. Lo use state crea lo stato open, quindi lo use state crea lo stato open con il valore di default, che è falso. La use effect è registrata, non eseguita, quindi questa viene registrata, non eseguita. Il jsx viene ritornato. Quattro. Dato che il componente è stato appena montato, sì, e che questa red di dipendenze dice che la use effect è da eseguire quando il componente viene montato e quando open cambia, il set timeout è eseguito. Si aspetta 500 millisecondi, il set timeout scade, set open viene eseguito, viene messo a false, lo stato open da false diventa false, quindi non c'è cambiamento, e quindi la use effect non viene eseguita più dopo questa fase, perché siamo sempre a false. Scusate, intendevo che è false, viene eseguito è false, era già false, quindi non ci sono effetti nel revendering in quanto era già visualizzato come stop, e quindi continua a essere visualizzato come stop. A un certo punto ci sono altre operazioni che possono capitare, ma a un certo punto l'utente clicca sul bottone, su questo bottone che ha questo on click, set open me, quindi questo non so più che numero era, 6, 7, quello che è, 7, facciamo finta, e open me, quindi questo è 5, 6, 7, l'utente clicca, 8, open me callback is called, quindi viene chiamata questa, set open viene messa true, il componente viene rirenderizzato, il gsx quindi viene ritornato, e a questo punto si vede go come scritta, use effect si accorge che open è cambiato, perché da false è diventato true, il set em out viene eseguito, dopo 500 millisecondi, set open viene messo a false. A questo punto open diventa false, il componente si rirenderizza, use effect viene ritornato il gsx come prima, use effect trova che open è cambiato, perché stavolta non è più true ma è false, e quindi rilancia un'altra volta il set em out, che metterà di nuovo il set open dopo 500 millisecondi a false, anche se lo era già in questo caso. Quindi questo è come funziona use effect, adesso vedremo in un esercizio come applicarlo alla nostra applicazione web. Ci sono però alcune cose da tenere a mente sull'array delle dipendenze di use effect. Innanzitutto dobbiamo assicurarci che l'array includa tutti i valori dallo scope del componente, quindi le props e gli stati che sono inclusi all'interno del componente, che possono cambiare nel tempo e che sono in maniera particolare usati dall'effetto stesso, quindi dalla callback. Questo viene anche segnalato da React anche quando vi segnalerà che c'è uno stato o una props che non viene utilizzato nella use effect, quindi controllare. Se ovviamente è un valore che cambia nel tempo e che viene usato nella callback e da cui vogliamo che la use effect dipenda, ovviamente va incluso nelle dipendenze. Se non lo includiamo nelle dipendenze, ma ne abbiamo bisogno perché cambia e viene usato dall'effetto, il nostro codice potrebbe rimanere con dei valori dal rendering precedente. Quindi, come regola, ogni valore riferenziato dentro la funzione della callback dovrebbe anche aprire nelle dipendenze. Quindi sicuramente gli argomenti della funzione, ma anche le variabili e le funzioni che vengono accedute tramite la callback stessa. Se l'array include variabili che cambiano sempre quando viene eseguita l'effetto, c'è il rischio che ovviamente si abbia un loop infinito. Per cui un valore di dipendenza che trigga il use effect, questo use effect cambia quel valore, quel valore, il use effect si accorge che quel valore è cambiato e si va avanti così in un ciclo infinito. Cosa capita quando mettiamo anche la fetch nell'equazione? Perché la fetch è ovviamente un side effect molto più importante che non il console log, perché ovviamente per esempio richiede tempi di esecuzione potenzialmente maggiori. Quindi cosa facciamo in questo esempio? In questo esempio diciamo che quando questo props, quando la props query cambia, dobbiamo eseguire questo effetto quando la props query cambia e quando il componente viene creato per la prima volta. Quando questa query cambia il componente e l'effetto viene eseguito, e in questo caso si recuperano informazioni da un server e quando la risposta è disponibile, qui await response ed è convertita in JSON, allora si aggiornerà lo stato e il componente si renderizzerà, ritornerà il JSX e quant'altro. Notiamo una cosa che viene fatta qui ed è spiegata nelle slide della stanza successiva, che notate che qui dobbiamo usare await, perché ovviamente abbiamo una fetch, anzi usiamo due volte await, e abbiamo dovuto quindi creare una funzione async che si chiama fetch employees, che viene poi richiamata qui. Allora, la domanda che potremmo farci è perché abbiamo dovuto creare una funzione async qui e non abbiamo potuto scrivere async qui, ma abbiamo dovuto creare una funzione asincrona? Questo perché la useEffect non prevede, quindi se provate a scrivere async qui non funziona, vede errore, non prevede che la sua callback possa avere una async davanti. Quindi se abbiamo bisogno di utilizzare una promise con async await, dobbiamo necessariamente creare all'interno della useEffect, all'interno della callback della useEffect, un'altra funzione che sia asincrona e poi richiamare quella funzione asincrona subito dopo, sempre all'interno della callback. E questo è quello che ho scritto qui. L'argomento della callback della useEffect non può essere una funzione async, ma si può definire e può invocare una funzione asincrona all'interno della callback stessa, come abbiamo fatto nell'esempio precedente. E qui c'è un esempio minimale dell'utilizzo del useEffect, useState e la fetch, in cui vedete che in maniera simile al precedente questo useEffect viene chiamato all'inizializzazione, alla primo rendering del componente e quando lo stato text cambia. al suo interno c'è una funzione asincrona che fa una fetch e poi partifica la risposta come JSON e a quel punto viene impostato lo stato. E questo è un pattern che troveremo abbastanza. Il fatto di avere una funzione asincrona nella callback che al suo interno abbia uno o più await e chiami per esempio delle fetch direttamente o indirettamente e poi a quel punto, dopo che queste operazioni sono completate, si imposta lo stato con il valore corretto che vogliamo tornare indietro. Ora, queste slide continuano. Fatemi solo, e le vedremo la settimana prossima, fatemi solo arrivare su questa slide perché la usiamo per l'esercizio. che faremo adesso? La raccomandazione è di tenere i metodi di fetch non all'interno del user effect come nell'esempio fatto finora, ma in un modulo javascript separato, per esempio api.javascript. Questo ci permetterà di tenere i dettagli dei metodi HTTP dentro questo modulo e di non mischiarli con il resto del codice, in quanto le API non dovrebbero dipendere da React o da qualunque stato o props dell'applicazione e il codice dell'applicazione dovrebbe non fare fetch o avere nessuna informazione HTTP per separare concettualmente le operazioni. Inoltre, questo ci permetterebbe di cambiare quel api.js con dei metodi finti per il testing o addirittura se dovessimo cambiare server a un certo punto avremo in un unico file tutte le API che ci servono. Quindi per riusabilità e buona pratica, come raccomandazione, ed è quello che faremo nel corso, è tenere i metodi di fetch in un file API e quindi puoi andare a fare api.getquestions, getfilms, eccetera, per recuperare quelle informazioni da React. Il resto di queste slide, da slide 24 praticamente in poi, li vedremo la settimana prossima quando parleremo non solo del recuperare informazioni da React, ma anche come modificare queste informazioni e anche alcuni casi particolari delle dependency array di useEffect, ma questo è oggetto della settimana prossima. Quello che faremo adesso invece è andare di nuovo sul nostro esempio e continuare con l'esercizio 13 che dice iniziare a connettere il client React di eProverRun con l'API server. Quindi partendo dall'applicazione React sviluppata la settimana scorsa e il server API in Express sviluppato sempre nella settimana 4, facciamo parlare due e in particolare facciamo sì che l'applicazione React consumi alcune delle API per recuperare il contenuto. Quello che vogliamo fare oggi e quello che farete in laboratorio domani è quello appunto di recuperare il contenuto. Quindi la lista delle domande, la lista delle risposte. Non vogliamo ancora, e lo faremo invece la settimana prossima, andare a modificare, aggiungere o cancellare delle risposte. Queste operazioni le faremo poi la settimana prossima man mano che andremo avanti con useEffect. Quindi in particolare vogliamo rimpiazzare le domande e risposte finte con delle informazioni ottenute attraverso il server. Quindi bisogna impostare course appropriatamente in Express e l'abbiamo già fatto nel video precedente. Chiamare le appropriate API da React e impostare useEffect al bisogno. Per questa settimana vogliamo chiamare le API per prendere la lista delle domande e le loro risposte per ognuna di esse. Come vi dicevo, ignoreremo la creazione, modifica o cancellazione di domande o risposte. Ok? Quindi andiamo a aprire il nostro React qua, che adesso ha questo file API.mjs che è vuoto. rispetto a quello che avete visto la settimana scorsa ci sono alcune piccole modifiche che ci portano a fare meglio, in un certo senso, l'esercizio di oggi. Allora, la prima piccola modifica è che questo fake question non è più singolare ma è plurale e contiene sempre una sola domanda e quindi di conseguenza anche lo stato è diventato plurale. Perché? Perché ho aggiunto un questions, plurale layout, che mostra un elenco di tutte le domande che abbiamo ricevuto e che in questo caso è una sola. Questa è la prima modifica. La seconda modifica che troverete qui, quindi questo componente question list è completamente nuovo. La seconda modifica che troverete qui è che questo React qua è quello che la settimana scorsa avete chiamato React qua params, in quanto utilizzi parametri, con un'aggiunta, nel senso che per poi facilità e per allineamento con l'API che abbiamo creato settimane fa, quello che ho modificato è che questo link per modificare una risposta, che di nuovo oggi non toccheremo, utilizzerà il serialize e quindi usa il location invece che il parametro. Quindi poi il question component, quindi l'add edit question layout, utilizza il location per recuperare la risposta modificabile invece che recuperarla dal parametro. Questo perché non abbiamo un API per recuperare la singola risposta ed è una cosa che invece quando faremo questa parte dovremo poi collegarci qui per andare a recuperare. In questo caso possiamo evitare di fare quell'operazione dato che le API non le supportano e non vogliamo in questo momento perdere tempo a modificare le API su server. Ok? Quindi lanciamo questo intanto e vediamo se funziona. devo innanzitutto aprire la cartella giusta e installare tutto. Mentre si installa apro anche il terminale del server che è quello di prima per cui abbiamo già tutto installato perché a un certo punto dovremmo lanciarlo e qui facciamo npm run dev e verifichiamo che tutto funzioni. Quindi localhost 51 73 ok vedete questa è la nuova prima pagina che ha una lista di domande e quindi se io clicco sulla prima domanda vedo le le risposte e posso come prima votarle aggiungerne o modificarle esattamente come fatto la settimana scorsa. Quindi questo continua a funzionare allora torniamo indietro e stoppiamolo e proviamo a integrare al suo interno l'API partendo da scrivere l'API e partendo dall'API per prendere tutte le risposte. Quindi cosa abbiamo bisogno di fare? Abbiamo bisogno innanzitutto visto che scriveremo molti tipi API possiamo definire una URL del server che nel nostro caso sarà HTTP 2.localhost 2.3001 così tutte le API potranno utilizzarlo. Dopodiché creiamo un metodo per prendere tutte le domande. GetQuestions GetQuestions cosa dovrà fare? GetQuestions dovrà fare una fetch GetQuestions 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 dato che qui c'è questa wait, in realtà già Visual Studio Code ci informa che wait può essere solo permesso all'interno di funzioni asincrone e quindi qui scriviamo async quindi abbiamo una fetch, a questo punto come prima se la risposta è ok possiamo prendere const questions json uguale await response.json quindi se lo stato è 200, ok, possiamo prendere il json della risposta e a quel punto dobbiamo però ritornare questo json potremmo ritornarlo così com'è ma dato che abbiamo un oggetto che rappresenta la risposta possiamo costruire un array quindi non con i json, non con oggetti javascript opachi ma con l'oggetto usando l'oggetto questions che abbiamo in qua models quindi possiamo fare return question json.map dato che questa è un array question e per ogni question cosa facciamo? new question q.id q.text q.mail e mail q.date e questi dovrebbero essere, controlliamo, dovrebbero essere i campi id, text, email e date che ci vengono passati dal nostro server scusate questo è Q nel senso che questo è possiamo chiamarlo così in questo caso possiamo anche gestire il caso di cosa succede se la risposta non è ok se la risposta non è ok vuol dire che siamo nel caso 500 e quindi possiamo lanciare un new error e dato che un 500 è un internal server error o qualunque messaggio d'errore che possa essere comprensibile in questo caso a questo punto facciamo l'equivalente anche, e fatemi fare copia e incolla per recuperare tutte le risposte quindi get answers in questo caso ci servirà un question id perché le risposte le prendiamo da una specifica domanda l'API per prendere le risposte è API questions id slash answer quindi question id, questo diventa più fatemi cambiare in tick tutto, così togliamo anche quel più quindi questo è dollaro server url slash API slash question slash dollaro question id slash answers a questo punto possiamo controllare se la risposta è ok come prima prendere answer json parsificare il corpo come risposta e poi answer json.map questo lo chiamiamo answer new answer dove ogni answer ha come proprietà answer.id answer.text answer.author answer.date e answer.score quindi verifichiamo che answer abbia effettivamente quei campi id test email score data data è dopo no id test email data score è l'ultimo id test email data e score e verifichiamo che si chiamino anche nello stesso modo qui id test email score e data perfetto e a questo punto nel caso in cui non vada bene ritorniamo un altro errore e cosa ci manca qui qui ci manca di importare question and answer perché se no non funziona from qua model e poi dobbiamo esportare questi due quindi possiamo fare const api uguale get answer e get questions e poi fare export default api ok e qui abbiamo le nostre due api che ci servono quindi due fetch che fanno quello che ci serve perfetto allora a questo punto dobbiamo andare a chiamare get question and get answer quando ne abbiamo bisogno quando ne abbiamo bisogno ne abbiamo bisogno dove andiamo a utilizzare questo fake question e questo fake answer quindi questo fake question e questo fake answer le vogliamo togliere lo stato iniziale sarà vuoto in entrambi i casi e a quel punto ci servirà una use effect per riempire use effect per riempire questi due stati e poi far proseguire la rendering di tutti i componenti quindi use effect, prendiamo la callback e iniziamo con lo use effect per le domande quando vogliamo passare quando vogliamo che questa use effect venga chiamata vogliamo che questa use effect venga chiamata a ogni rendering di app probabilmente no è eccessivo ma vogliamo sicuramente che venga chiamata al primo rendering perché sennò non avevamo la lista delle risposte e delle domande potremmo anche volere che questo venisse chiamato tutte le volte che questions cambia ma dato che la nostra applicazione non abbiamo modo di aggiungere, modificare o cancellare domande questo seppur concettualmente corretto non è in realtà necessario in quanto le questions non cambieranno mai dalla nostra applicazione potrebbero cambiare da server ma non dalla nostra applicazione quindi cosa facciamo in questa use effect? in questa use effect prendiamo quindi recuperiamo tutte le domande dal server e quindi cosa facciamo? creiamo una variabile dato che queste API sono assincrone dovremmo gestire le promise quindi creiamo una funzione chiamiamola getQuestions che facciamo che è async cosa fa questo getQuestion? beh questo question fa crea una variabile che è le nostre domande e le prendiamo dall'API getQuestions e ci assicuriamo che API sia importato no import API from API perfetto e a quel punto qui avremo le nostre domande se tutto va bene e quindi possiamo a quel punto aggiornare lo stato direttamente con questions perché lo stato attuale non dipende dallo stato precedente a questo punto qui invochiamo la funzione che abbiamo appena creato getQuestions e siamo a posto ora siamo a posto per le domande ora andiamo a verificare se nella index che nella root passiamo delle risposte no non le passiamo e e quindi siamo tranquilli così fino a quella pagina dovremmo arrivarci verifichiamo che sia vero anzi verifichiamo che sia vero quindi lanciamo questo se noi lanciamo react ma non lanciamo i server cosa succede succede che ovviamente non abbiamo risposta non abbiamo risposta perché l'array dello stato delle domande è vuoto e quindi la lunghezza di quell'array è vuoto e se guardiamo nella console ci viene scritto come nel caso dell'esempio precedente che il fetch è fallito ok ora facciamolo funzionare lanciamo il server nodemon server.mjs server parte alla porta 3001 aggiorniamo questo e vediamo che adesso abbiamo due domande disponibili due domande disponibili che sono quelle prese effettivamente da server in quanto noi nel nostro codice la domanda numero 2 non l'avevamo ora cliccando su questa pagina dovremmo andare nella pagina con tutte le risposte che al momento è vuota perché è vuota perché ovviamente noi abbiamo svuotato lo stato delle risposte e non abbiamo ancora chiamato answers da nessuna parte allora come lo lo facciamo innanzitutto dobbiamo decidere dove chiamare answers ha senso chiamare ancora ha senso chiamare answers in app probabilmente no perché app adesso ha come root quindi come pagina iniziale questa con la lista delle domande e se noi quale risposte andiamo a chiamare perché adesso abbiamo molteplici domande quindi andiamo a prendere la risposta di tutte le domande ma non abbiamo un API per fare questo quindi quello che dovremmo fare è spostare queste due proprietà e poi anche l'update l'add in un secondo momento quindi spostare questo stato dentro come si chiama question layout singolare quindi questo è un component quindi qui dentro andiamo a creare lo stato e andiamo anche a mettere temporaneamente almeno il metodo vote up che non viene più richiamato da nessuna parte ma viene utilizzato viene ancora passato come props da mettiamolo qui viene ancora passato come props da fatemi fermare questo e salvare anche app veniva ancora passato come props quindi ha senso passarlo quindi questo vote up non sarà più props vot up e questo answers non sarà più props answer ora cosa ci serve qui? qui ci serve un'altra volta uno use effect un use effect fatto in maniera analoga se volete e fatemelo copiare di quello di app in quanto un use effect che ci serve per recuperare non tutte le domande ma tutte le risposte associate alla domanda specifica quindi questo get question lo rinominiamo in get answers questo set question lo rinominiamo in set answers che è il nostro stato questo get question diventa get answers questo diventeranno answers l'api diventerà get answers e qui dobbiamo passare il question id fatemi fare così sì dobbiamo passare params punto question id quindi quindi parametro l'id che abbiamo da prima oppure guardate meglio visto che lo usiamo già là possiamo fare question.id tanto e qua dentro c'è question.id e quindi questo diventa answers abbiamo finito no dobbiamo specificare quando ipoteticamente specifica quando ipoteticamente questo use effetto viene chiamato viene chiamato di nuovo tutte le volte probabilmente troppo viene chiamato all'iniziazione della pagina sicuramente ha senso chiamarlo anche quando answers cambia ha senso perché a un certo punto andremo a modificare ovviamente le risposte perché avremo metodi per aggiungerli cancellarli eccetera per ora non li stiamo implementando quei metodi quindi lasciamolo vuoto ma qui ha senso diciamo to do aggiungere dipendenza da answers mettiamolo come to do perché è un qualcosa che faremo la settimana prossima quando servirà quindi settimana prossima e noi lo faremo la settimana prossima quindi a questo punto appena la pagina cosa succede la prima volta che la pagina il componente viene renderizzato non ci saranno risposte verrà restituito il jsx quindi questo appena poi viene lanciato appena 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 l'elenco delle risposte dato che nel nostro caso siamo sullo stesso computer sarà una cosa immediata e probabilmente non vedremo nessun nessuna differenza nessun aspetto visivo che ci faccia dire sta passando troppo tempo allora proviamo a eseguirlo e servere ancora in funzione quindi proviamo a tornare qui proviamo a cliccare e ci dice useState is not defined perché giustamente abbiamo dobbiamo importare useState perché qui non era ancora usato e e vediamo che ancora non funziona perché ah perché anche API non è stato definito giustamente perché abbiamo fatto copia incolla e quindi non si è accorto che c'è questo cambiamento quindi importiamo API anche in questo caso ah il file non esiste perché siamo al di fuori della cartella components certo quindi così ok ok ripartiamo da zero per verificare che fatemi fare refresh schiacciamo sulla domanda 1 in effetti ci sono tre risposte e se torniamo indietro andiamo sulla domanda 2 vediamo che c'è una sola risposta se noi verifichiamo sul server che queste siano effettivamente tre risposte possiamo andare per esempio possiamo andare a aprire il database e vedere che in effetti associata alla domanda 1 c'è solo le prime tre risposte che sono yes not in a millionaire and both have their pros and cons e in effetti yes not in a millionaire and both have their pros and cons sono quelle che abbiamo e possiamo potremmo se l'avessimo finito di implementare e votare ovviamente lì ci dice che answers non è definito ah new answer certamente perché bisognerebbe anche qui importare answer from qua model quindi se noi andessimo a votare ovviamente funzionerebbe dato che non abbiamo collegato il voto al database se facciamo il refresh se torniamo qui di nuovo ovviamente questo è sbagliato questo ovviamente perde il voto se facciamo il refresh di questa pagina ci dice non posso read the proprietà undefined certo ci da questo errore vedete è vuoto non posso interpretare di undefined reading id a riga 21 di questo di question components e a riga 21 in effetti c'è questo get answers da question.id questo perché questions non ha questo perché question è ancora undefined perché non ha ancora finito le operazioni quindi se ne facciamo così invece non dovremmo avere problemi se non sbaglio scusate sì senza il meno uno perché il meno uno serviva perché è un array quindi se noi vedete se io torno qui funziona se io faccio refresh lui ovviamente funziona questo perché dato il use effect viene eseguito dopo a un certo punto in questo caso la nostra questions non era ancora inizializzata prendendola dalla props precedenti quindi nel momento in cui il use effect veniva chiamata non c'era un ancora a disposizione una question prendendolo dalla question.id risolviamo questo problema ok quindi questo chiude l'esercizio di questo video come vedete che get answer e get question sono molto simili abbiamo dovuto ovviamente spostare lo stato delle risposte più vicino a dove serviva in quanto qui adesso in app non abbiamo più una sola risposta ma abbiamo tutte le risposte a differenza del di prima avessimo avuto una sola risposta poteva rimanere qui ovviamente l'add answer l'update answer non in questo momento non funzionano ma li faremo funzionare di nuovo in quanto saranno collegati al al database e e questo è quanto in laboratorio domani quello che vi chiederemo è di partire dal dall'esercizio della volta prima e dal server che avete realizzato e fare esattamente quello che abbiamo fatto in questo video quindi usare i user effect e la fetch per recuperare le informazioni sui film